Allora scusate c'è stata una mini interruzione nella registrazione quindi si è perso qualche secondo comunque abbiamo aperto una porta e niente adesso abbiamo trovato questo banco c'è anche sulla nave tra l'altro che si possono potenziare altri praticamente sono caduto di qua possiamo passare di là se distruggiamo questa roba grazie per il potenziamento ma figuriti sembra un po' malfermo state niente un secondo cervelli cervelli ciazzi buon compagnia qua sotto è un piacere prendere appunti questi affari che cosa ti sei perso è stato uno spasso squadra rocket finalmente vi avevamo persi in quella nave c'è qualcosa che interferisce con le comunicazioni già qui c'è qualcosa di strano e qui l'è caduto in una acqua di puntabilità ok un altro buco ancora? sto parcheggiando la milano ma drax è uscito a cercarvi potreste trovare qui prima di noi stiamo cercando di raggiungerlo ragazzi dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra io non sto giocando io non sto giocando io non sto giocando un altro buco non travo trao uccidilo i denti del pensiero questo cosa non si piazza non ti fanno niente uccidilo di più uccido più che posso un altro brazzo di ben quel colosso Perfetto Perfetto Andato Ecco camora Fantastico Colpo letal Perfetto Trovato qui il Verdolini Trovato e salvato Andate allora Noi arriviamo Facciamo solo una sosta Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello Facci vedere come balli Gamora Guardate e imparate Io posso arrivare la scuola Ma a voi servirà qualcosa su cui arrabbiarvi Ok Ok Cerche poi Guarda Guarda Ricorda questo momento Dovessi mai pensare di ostacolare Ma perchè Ok rocket Siamo sulla strada giusta Ah Giusto Bravi E' abbandonata Non è rubare Noi No Razzo Ok Io sono gru Non ora quel Forse ha localizzato il nostro mostro Non sappiamo neanche come fa Le informazioni erano molto vaghe Non erano vaghe erano sbrigative Sarà un carissimo piccolo uomo Non c'è abominimento Lady Elbender è una celebre guerriera L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiarne il potere Appunto Una roba terrificante Di selva La forza ispira amore La mia Camarie e sua madre erano Due delle persone più forti che abbia mai conosciuto Scommetto sarà carinissimo Non mi piacciono le cose carino No Tutte le donne dell'universo Dattano il controllo di quantità Un esserino uomo Lady Elbender è una femmina eccezionale E desidera senz'altro una creatura delle più degne Non hai mai visto un cucciolo di lontra giocare con le sue manine? Non posso negarlo Come Ciscio arriva? Il soreletto provoca una specifica sensazione I catatiani la chiamano sguardo d'ombra Ora che lo fai notare anch'io mi sono sentita osservata Forse la nostra preda ci dà la caccia Ebbene che venga Oh yeah Secondo voi perché il mostro ha scelto questa nave tra tutte? Nutrimento senz'altro Forse i motori vibrano ancora anche dopo tutti questi cicli Oppure trae nutrimento da una perdita di fluidi Le radiazioni spiegherebbero i problemi con le radio Forse vaga per l'estima in cerca di nutrimento Eccoci tutti Eccoci tutti Per l'estima inizio E' un'ora anche nella sconfitta Resisti forza! Madonata! Oh oh oh, che figata! Oh yeah! Sono praticamente ovunque, ridono di noi! Tuttavia, non possiamo ritirarci! Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto, là fuori è inquietante, Quill! Spaventoso, pido meglio! Sì, spaventoso! Bastardi a sinistra, bastardi a testa! Allora è il momento di affrontarvi a testa alta e di distruggere! Siamo eroi da smettere? No! Piuttosto sarò io a ridere di loro! Chi è con me? Non esaggermi per te! Yeah! Spaventoso! Woohoo! Ok. Rufi, fermati! Rufi, fermati! Rufi, fermati tutti! Ruffi, fermati tutti! Rax si sta scendendo! Ruffi, fermati per bene! Non batter, direi! Non stendo che ce la facciamo! attraffichiamone prima che ci rialzi facci vedere la spada questa non te la sbagli addio che abbassano la guardia l'ultimo martello va poco più avanti come lo sai i miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni davvero no non seguendo sullo schermo a quanto pare funziona ancora fa un tentativo rocket attenti genio al lavoro certo che se vuoi fai miracoli devo ammetterlo quel parcheggio è un capolavoro Thanos non tollerava le imperfezioni Will invece è molto tollerante eccoci ultima fermata vedo l'ora di uscire da qui in questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro e io di incontrare il vostro pensavo ti interessasse conoscere la cliente è una rispettabile collezionista sta funzionando? si si non temere zuccherino sta funzionando? cosa? a me sembra che sia rotto non è rotto per niente è normale che faccia questo rumore di che rumore parli? voi non lo sentite? che cosa? è qua la bestia facciamogli il culo grande gru funzionale e ora pensiamo al mostro grazie a tutti